Allora Alessio, seconda sconfitta consecutiva per l'uso di computer grossi. Sì, più che altro la seconda sconfitta consecutiva in casa. Nulla, era una partita che temevo, nel senso che, come ho detto all'intervista o sul giornale, loro sono una squadra che secondo me si è lasciata giocare per quello che possono fare, secondo i loro binari, sono una squadra da temere, perché comunque hanno dei professionisti da amalgamare, che però conoscono la pallacanestro, hanno delle qualità e al di là del fatto che hanno perso a Torrenova, comunque all'inizio, come ho detto, hanno avuto un calendario difficile perché hanno giocato a Omenia, hanno giocato a Firenze, quindi è una squadra che era da temere. L'abbiamo, secondo me, in settimana, cioè in settimana, nelle due settimane, preparata, cioè siamo allenati abbastanza bene, direi, però oggi non abbiamo fatto quasi niente di quello che si era detto e niente, non difendiamo, è molto semplice. Non difendiamo e abbiamo giocato sotto ritmo, quando abbiamo alzato l'intensità difensiva, abbiamo corso, siamo andati a più dieci. Poi dopo siamo usciti, non so cosa ho fatto di male durante l'intervallo, perché siamo usciti e in un minuto e quaranta, se non sbaglio, abbiamo preso dieci punti e siamo tornati pari e quindi tutto quello che avevi costruito l'hai buttato nel cesso. Poi uno può parlare degli arbitri, può parlare, però io dico sempre che agli arbitri devi adeguarti, voglio dire che io sono lontano, siamo visti dei falli in attacco, però non siamo stati imbarazzati. Si è incappato anche una serataccia di Giarelli, altre volte l'anno scorso soffriva questa questione dei falli. Sì, però secondo me, ripeto, Giarelli è un giocatore che ha un'importanza di un certo tipo all'interno della squadra e avere un'importanza di un certo tipo porta a dover avere, secondo me, un certo tipo anche di controllo, se no l'importanza di un certo tipo non ce l'hai più. Senti, se è vero che l'uso non era fenomenale prima, comunque non è tutto da buttare ora, insomma, tutto sommato la classifica è sempre un po' quella che poteva aspettare all'inizio. Io sinceramente, questo ovviamente è il mio lavoro, ripongo, cioè penso, ovviamente di errori se ne fanno tantissimi, io sono il primo perché se la squadra fa una sparita così, vuol dire che il capitano della barca sono io, quindi il primo a essere colpevole sono io. Però, voglio dire, penso anche che due settimane di lavoro, di attenzione particolari, questo e quell'altro, non possono avere come conseguenza una parità così. E allora bisogna cambiare qualcosa, c'è qualcosa che evidentemente non funziona, perché comunque siamo parili con quattro vittorie e zero sconfitte, è vero che si dice sì, però non è che siamo diventati bravi, tutto in colpo, lo so, però mi aspettavo qualcosa di più, non andrei neanche a trovare la scusa che c'era l'allenatore che l'ha avuto per quattro anni, qualcuno può essere stato, sicuramente lui conosce i suoi giocatori, qualcuno può essere stato influenzato, però secondo me dobbiamo essere, cioè mi aspettavo che ci fosse un pochettino più di disciplina su certe cose, mi sembra ogni tanto di parlare un po' a vuoto, anche perché penso che la tattica sia sicuramente importante, però prima della tattica c'è, voglio dire, alcuni fondamenti che sono base, voglio dire se fai fatica sempre a tenere uno contro uno, se fai fatica sempre in ritardo su tutto dopo la tattica, perché tutti fanno la tattica, ok, o preparano qualcosa, però c'è uno che vince e uno che perde di solito, quindi non è la tattica, è il fatto che dietro ci deve essere qualcosa, loro all'inizio hanno occupato l'area, Giarelli in pratica hanno giocato 15 minuti, e voglio dire abbiamo anche altri problemi, non sto a parlare di singoli perché non mi sembra corretto, però stasera sono molto deluso e pensieroso, e dico che niente, non ho nulla di positivo da dire, nel senso che non sono quello che ti dice, ora ripartiamo, mettiamocela alle spalle, se continuiamo così è difficile, è difficile, tu pensi sì, ma hai vinto quattro partite, hai perso due, sì, però secondo me, al di là del risultato, mi sarebbe piaciuto vedere la voglia, l'entusiasmo, le facce, perché voglio dire, tanti atleti hanno alla base questo e devono avere alla base questo, se non hanno questo non possono giocare in questa categoria. Avere sabato una partita come quella di Omegna, ti preoccupa o forse è un banco di prova importante in questo momento? Io penso che sia importante come ci sia lena durante la settimana, cioè nel senso di dire, vedere gente che si sbatte durante la settimana, vedere gente che capisce quello che è il suo ruolo, che capisce, è la consapevolezza di quello che deve fare se gioca a Luse, però io sono arrivato qua tre mesi fa, voglio dire evidentemente, cioè non è che vengo e dico che c'è Luse e sono anche ragazzi che ci hanno giocato fino a oggi, per me è inaccettabile una partita come quella di oggi, da un punto di vista, per quello che per me è la vita e lo sport, poi ognuno si guarderà dentro, io sicuramente mi autocritica la faccia, perché io prima sono abituato a guardarmi stesso, quindi riguarderò la partita e troverò sicuramente tante cose che potevo fare, non ho fatto, però è anche difficile quando non c'è, secondo me, un atteggiamento che non capisco perché non ci sia.